Dopo l'Albania, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si è recato in visita nella Repubblica della Macedonia del Nord, ricevuto al suo arrivo dal presidente Stevo Pendarovski. Le visite a Tirana e Scopia suggellano il sostegno dell'Italia all'adesione all'Unione Europea di Albania e Macedonia del Nord, i cui negoziati d'accesso dopo 12 anni d'attesa si sono sbloccati nel luglio scorso. L'Italia guarda con interesse alla Macedonia del Nord, con cui ci sono scambi commerciali e culturali in crescita ed è un paese ritenuto essenziale per la stabilità dei Balcani. Grazie a tutti.